E bella a tutti mici nerd, qui MrDrakeSoy e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale e suggermi su Instagram per rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti il mondo rockstar. Ebbene sì, avete letto giusto dal titolo, praticamente per questa settimana ci sarà GTA V gratis. Infatti ora il gioco è disponibile sull'Epic Game Store, sicuramente lo conoscerete soprattutto se giocate a Fortnite, e sarà possibile riscattarlo, come ho detto prima, per una settimana. Se tratta della versione premium del gioco, ossia che comprende la storia, l'online, sull'online avrete già alcune proprietà e inizierete con un milione di dollari, che non sono pochi soprattutto se siete all'inizio. Ovviamente vi lascio il link qua sotto in descrizione per scaricare l'Epic Game Store, nel caso non ce l'abbiate. Ovviamente anche se non giocate da PC io vi consiglio di riscattarlo lo stesso, che magari prima o poi l'occasione per giocarci l'avrete. Dalla sua apertura sull'Epic Game Store sono stati regalati tantissimi giochi, molti indie, sconosciuti, ma sono stati regalati anche giochi grossi, come abbiamo visto recentemente Just Causes 4, in passato abbiamo visto tutta la saga di Batman, Assassin's Creed Syndicate, Watchdog, ma nessuno fra questi è mai stato un campione di incassi come lo è stato GTA V e lo è ancora, in quanto continua a rimanere in testa alle classifiche tra i giochi più venduti, nonostante siano passati quasi sette anni dalla sua uscita. Non è il primo gioco Rockstar pubblicato sull'Epic Game Store, in quanto abbiamo visto che era stato pubblicato anche Red Dead Redemption 2. Questa potrebbe essere, dal mio punto di vista, una mossa di marketing da parte di Rockstar per atterrare l'attenzione su di sé e sulla propria saga, nonostante comunque non ne abbia bisogno effettivamente, però aumenterebbe tantissimo il suo pubblico sul GTA Online in questo modo, magari per un imminente annuncio di un possibile GTA VI. Ormai si è vociferato tantissimo, lo stiamo aspettando tutti, e io proprio non sto più nelle spine, però quasi sicuramente quest'anno lo vedremo. Dato anche i recenti rumors che si parlava che il gioco fosse completo al 60-70%, quasi sicuramente lo vedremo entro la fine dell'anno, ovviamente sto parlando di un reveal trailer, non del gioco. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, ovviamente vi invito a riscattarlo e lasciatemi anche qua sotto i vostri nickname, così magari vi aggiungo, in quanto prossimamente riprenderanno anche i video su GTA, in compagnia, un piccolo spoiler. Quindi bene nerd, per questo video è tutto, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un bel like, seguitemi su Instagram, in quanto questa notizia l'avevo già anticipata lì, già nella giornata di ieri. Noi ci riveghiamo al prossimo video, bella!